Instant English l'ho scritto tipo sei anni fa quando non c'era niente di simile, cioè non c'era dei libri da una precedenza, quindi anche se io ero molto convinto del metodo e del sistema non poteva sapere dove spagliavo, insomma non c'era un altro libro che era mirato proprio agli italiani i loro problemi, leggero, ho cambiato anche l'ordine di grammatica rispetto agli altri e sono andato proprio distinto dalla mia esperienza con studenti italiani però era sei anni fa e in questi sei anni ho avuto tanto feedback sia da studenti e insegnanti con preziosissimi consigli e in base di questo e in base di esperienze da quando è uscito il libro ho cambiato delle cose ho rimesso cose che non erano nell'originale e l'ho perfezionato diciamo ed è per questo serviva proprio una new edition e Instant English adesso è come ho sempre voluto dall'inizio sono molto orgoglioso di questo libro